Ci sono più indagini parallele riguardo a Russiagate? Parecchi, l'unico terrambo esecutivo è quello della FBI, poi ce ne sono quattro nel congresso da quattro comitati diversi, allora è una situazione molto complicata legalmente e ovviamente le implicazioni politiche di più. Che cosa succederà, quali saranno le conseguenze di questo licenziamento? C'è la possibilità di una nomina di un procuratore speciale, fino adesso sono riusciti a evitarlo, però se c'è abbastanza pressione politica, non solamente dal partito democratico, ma principalmente dal partito repubblicano, se c'è la nomina di questo procuratore speciale sarebbe uno indipendente, fare un'indagine indipendente. Come si sta muovendo Trump in questi mesi? Come vede il futuro di Trump? Dopo i cento giorni di Trump c'era la speranza da molto che ci sarebbe una normalizzazione della presidenza di Trump, però questo fatto del direttore dell'FBI vuol dire che la sua situazione politica continua a complicarsi. Se vengono alla luce i legami tra l'amministrazione Trump e i funzionari russi, il presidente rischia l'impeachment? Durante la campagna elettorale se certe persone sono stati coinvolti in questo senza il suo permesso, perché lui non sapeva, allora quello vuol dire che ci sono un processo penale contro quelle persone. Sul fatto che i loro rapporti saranno ottimi e che collaboreranno insieme, come vede questa futura collaborazione tra Stati Uniti e Russia? Sì, da un punto di vista il ramo esecutivo di governo può continuare, quello è senza dubbio, però ovviamente il processo interno americano su queste indagini ovviamente complicherà moltissimo anche in relazione con la Russia.